Sono 170.000 i campani affetti da psoriasi, una patologia infiammatoria della pelle di cui soffrono circa 2 milioni e mezzo di italiani. Per una persona su 3 che ne patisce la forma moderata grave diventa significativo anche l'impianto sulle relazioni sociali perché l'infiammazione comporta danni cumulativi su diverse parti del corpo, causando persino disturbi come ansia, stress e depressione. Una diagnosi precoce e le nuove terapie consentono una qualità della vita decisamente migliore. In campagna ci sono diversi centri specializzati come l'unità operativa di dermatologia dell'azienda ospedaliera San Più di Benevento guidata dal dottor Giovanni Sarracco. Qui seguiamo annualmente almeno sui 300-400 pazienti all'anno, in un trend che è sempre in crescita appunto perché via via, anche grazie ai vostri intervisti ai servizi dei media, i sempre più pazienti vengono a sapere della possibilità che hanno di potersi curare in maniera efficace, tranquilla e comoda. Grazie ai centri di riferimento come quello di Benevento, caratterizzati da un approccio multidisciplinare, si riesce ad avere una diagnosi precoce ed i pazienti hanno accesso a tutte le terapie biotecnologiche di ultima generazione che consentono un miglioramento significativo della malattia, fino alla scomparsa della stessa, come spiega il dottor Sarracco. Ci sono dei farmaci di ultima generazione che consentono la completa gestione e blocco della malattia con solo le tristine all'anno, una sorta di vaccinazione, termine improprio ovviamente, ma che comunque rende l'idea che consente al paziente di stare bene senza dover correre i rischi e senza affrontare terapie frustranti, antipatiche, fastidiose e anche rischiose.